Ciao a tutti ragazzi, qui il vostro Arche di Parla, esattamente come è stato fatto per FireBuzzZ, sono qui con il mio video di impressioni ed opinioni su questa mappa e questo è appunto uscito già da una settimana, qui ho nerdato più che abbondantemente, sono qui per dirvi cosa ne penso, che ho già un pochino magari spiegato in streaming perché mi chiedeva come è la mappa, come è l'isterag, la mundur app o una roba del genere, ma diciamo che questa è una specie di riassunto di tutto quanto quello che penso e quello che penserò probabilmente anche in futuro per Cold War e le mappe zombie. La prima cosa ovviamente, finalmente, ma Werder Totten dopo ben praticamente 5 mesi senza nessun'altra mappa zombie, a round è qualcosa di veramente fantastico, quello già fa la differenza secondo me veramente incredibile, e al momento Cold War quindi ha 3 mappe a round, che non è tantissimo, ma non è più per dire una come era all'inizio o due con FireBuzzZ per mesi, mesi e mesi. Quindi avere qualcosa di nuovo da poter giocare ogni singolo giorno è veramente fantastico e fortunatamente la mappa è veramente stupenda. A riguardo avendo già giocato tantissime partite anche di high round posso dire questo, la wonder weapon è veramente stupenda, molto divertente e parecchio forte, è praticamente paragonabile a una ray gun. È assolutamente velocissima da poter costruire, tra virgolette, anche se si ottiene dalla cassaforte, e tutto quanto secondo me per il setup su questa mappa procede molto molto tranquillo, in uno di estremamente complicato o lungo, ma neanche due cose in croce da fare, perché comunque Klaus prende la torcia UV e farsi l'arma, magari fare il bunny party, cose del genere, quello diciamo del setup standard, poi si può ovviamente fare anche l'easter egg. A riguardo l'easter egg mi è piaciuto veramente tanto, avendolo già rifatto 3-4 volte, non è che sia nulla di estremamente complicato o lunghissimo, ed è sì circa sul livello delle prime easter egg di epidemia, ma forse un pochino più facile dalla boss fight, ovviamente se ben organizzati, o quantomeno si può fare tutto molto più in fretta. Questo secondo me non è un punto a sfavore, anzi secondo me un ottimo easter egg che può essere fatto e rifatto veramente tantissime volte, mentre per dire quelli di Firebase Z e di Machine, li ho probabilmente fatti in tutto 2-3 volte massimo, già questo di Moverter Totem mi risulta un pochino più divertente, e i passaggi non sono estremamente complicati, non richiedono magari RNG o cose del genere che non mi sono mai piaciute, e un pochino di impegno finale per la boss fight c'è, ma non qualcosa che ti faccia impazzire, e dove ogni singola scelta o mossa possa causare un possibile game over, come un pochino era nella boss fight Legion, che per essere impegnativa e divertente, era comunque forse addirittura in certi casi troppo impegnativa, o addirittura per certe persone assolutamente impossibile, o quantomeno difficilissima, perché anche aziende a tempo e tutte cose del genere, è una boss fight comunque fatta come si deve. Sicuramente c'è da considerare, oltre che Moverter Totem e la mappa stessa, tutti i cambiamenti fatti alla vita degli zombie, che adesso è finalmente 60.000 punti vita e non 120.000, qui non più per dire 30.000 come era all'inizio, che era qualcosa di assurdo, veramente pochissimo, gli zombie sono abbastanza resistenti, ma tutto quanto funziona abbastanza bene, probabilmente farò un video in cui testerò nuovamente tutte le strategie per Dimashin e Farbazeta, per Moverter Totem c'è la strategia al corrente che già ho mostrato, che funziona secondo me molto molto bene, e questo appunto è combinato al cambiamento della vita degli zombie, il cambiamento dell'equipaggiamento, gli oggetti e tutto il resto, e tutto fa una bella differenza, perché per dire, se avessimo ancora 120.000 di punti salute per gli zombie, questa Wonder Weapon dopo il round 50 farebbe molta, ma molta fatica, mentre adesso uccide praticamente a qualunque round, a parte per i nemici speciali che di recente hanno comunque ridotto, quindi tutto quanto fa la differenza. E la mappa secondo me che si può continuare a giocare veramente tanto, la differenza ovviamente è il fatto che la mappa è nuova, dopo mesi e mesi che ha giocato a Dimashin, Farbazeta, Epidemia o di recente The Dops, è chiaro che avere un contenuto nuovo così grosso è qualcosa di veramente molto molto importante. La discussione un pochino a un certo punto è girata sul fatto del questa mappa è bella, ne è sicuramente valsa l'attesa, ma è valsa veramente un'attesa così lunga di 5 mesi per un'altra mappa zombie, mentre in mezzo magari qualcuno poteva non piacere Epidemia o altri contenuti del genere, non erano interessanti, io la penso così. Per nessuna mappa possibile e immaginabile che c'è stata finora adesso, ci sarà probabilmente in futuro 5 mesi è una giusta attesa. 5 mesi per una mappa è veramente troppo, per cui per quanto questa mappa probabilmente sarebbe molto in alto nella mia tier list non estremamente in alto, ma comunque una mappa da A molto molto buona, veramente giocabilissima e con tante cose divertenti. Ma anche se fosse stata una mappa allucinante da tier S mostruosa, 5 mesi secondo me sono veramente troppi per giustificare un'attesa così grande. Un'ottima mappa veramente divertente, ma in 5 mesi di tempo chiaramente tutti quanti si sarebbero aspettati, almeno 2 mappe o cose del genere, per quanto su Skull 2 tutto quanto è stato strutturato leggermente in maniera diversa, per dire Epidemia è il secondo DLC, qui non tutto quanto potrebbe essere costantemente mappe a round, o tutto in maniera un pochino più lineare, come i vecchi DLC alla Black Ops 3, Black Ops 4, Black Ops 2, Black Ops 1, e così indietro. Ciò non toglie che secondo me questa è veramente una mappa che verrà giocata ancora per tanto, tanto tempo, e appunto combinato al cambio di vita degli zombie, possiamo tornare a giocare zombie veramente tanto. Io da pazzo maledetto come sono, sono già tornato su The Dops, ma semplicemente perché mi mancano alcune sfide lì, e quindi sullo zombie standard, che ho già fatto i milioni di kill e tutte le altre Dark Ops, ci sta a fare qualche round 100 per XP o cose del genere, ma ora che non ho magari per dire troppa voglia di fare un record altissimo, non penso che giocherò chissà quanta zombie anche se continuerò a fare partite, anche perché appunto avere una mappa nuova su cui giocare, o anche soltanto stupidamente livellare le armi, è qualcosa che cambia davvero tantissimo. Ricordo anche soltanto quando è uscita a Fireball Z, che ho giocato quella per mesi e mesi, sia perché era l'altra mappa aggiuntiva oltre che di Machine, ma una volta che hai consumato completamente le mappe precedenti, c'è l'esperienza nuova della mappa che è molto importante, ma anche il fatto di dire, se devo livellare delle armi, fare delle sfide o piccole cose del genere, è chiaro che le faccio sulla mappa nuova, perché altrimenti le altre le potrei giocare praticamente da ben dato, le ho già giocate a sufficienza, ci sta invece finalmente dedicarsi a questa mappa successiva, per tutto quello che si può fare, si può imparare, ma anche giusto appunto cambiare un pochino il setting, e non giocare sempre le stesse cose. Sono oltre sicuro che tante persone non ha cominciato, adesso stanno portando una discussione su quello che ci sarà dopo My World of the Totten, ed è forse un pochino troppo presto, c'è appena stato appunto l'arrivo di questa nuova mappa zombie, quindi dobbiamo concentrarsi su questo e continuare a giocarla, anche perché è uscita praticamente da soltanto una settimana, però molti già si stanno chiedendo cosa arriverà in season 5, in season 5.5 reloaded, in season 6, cose del genere, e ripeto, secondo me è veramente presto. Molto probabilmente secondo me vedremo un'altra mappa zombie ancora, e poi in seguito staremo a vedere, perché possiamo speculare, leggere leak, rumor, tante altre cose del genere, ma finché 3 e 3 activision non dicono tutto quanto, quello che dovrebbe arrivare, o comunque ci sarà in futuro, non possiamo fare assolutamente niente, se non continuare a giocare e continuare a sperare. Probabilmente in questo periodo ci saranno tantissime discussioni per quanto riguarda la storia, perché l'easter egg ha portato tantissimo in avanti tutto quanto quello che è successo, come anche anticipato da Craig Houston, per cui ci sarà probabilmente un video di discussioni su quello che è successo alla fine dell'easter egg con la cutscene, e quello che potrebbe succedere in futuro nella prossima mappa, che non penso sarà l'ultima in assoluto, almeno per quanto riguarda la storia, potrebbe essere l'ultima di Cold War. Anche di questo non sono sicuro al 100%, e le speranze sono per avere almeno altre mappe zombie, però è chiaro che dipende un pochino da come sono distribuite, come usciranno e se usciranno. Posso concludere dicendo che è sicuramente una mappa con un feeling davvero classico, sarà magari soltanto il setting a berlino, ma una mappa in più fatta così è veramente qualcosa che serviva a Cold War, e possiamo sperare che in avanti tutto quanto sia circa su questo livello, non richiedendo comunque chissà quanti mesi di lavoro, ma tutto quanto possa procedere veramente molto molto spedito. Cold War continuerà a giocarlo per ancora molto tempo, e spero che ci sia magari un secondo anno di contenuto o qualcosa del genere, per continuare a supportare questo zombie. Per quanto riguarda altri contenuti per uno zombie alternativo di World War II Vanguard, o il prossimo progetto di Treyarch, tra non si sa quanto tempo, è chiaro che dobbiamo soltanto aspettare in futuro di vedere come sarà organizzato, se sarà collegato per la storia, il gameplay o altre meccaniche, in generale come proseguirà tutto quanto quello che è collegato a Cold, perché ora come ora, ricordiamoci, non è soltanto questione di quello che è zombie, quello che è Cold War, ma anche quello che è Warzone, quello che è il Cold precedente, e quello che sarà il Cold successivo. Quindi voglio come al solito sapere ragazzi anche le vostre opinioni riguardanti Mowarder Totten, se la state giocando veramente tantissimo, se avete fatto l'easter egg, un round alto, livellato qualche arma, mi ha provato la Wonder Weapon, tutte queste belle cose, sono sicuro che in quest'ultima settimana praticamente tutti quanti sono riusciti a fare almeno una partita, quantomeno lo spero, perché sono sicuro che con tutti quanti gli impegni personali, ogni tanto riuscire a giocare come si deve può essere veramente impegnativo. Ho avuto la fortuna di essere completamente libero da esami e cose del genere, quindi non è dato veramente tantissimo, ma so di altre persone che per dire anche i primi due o tre giorni, stavano aspettando di tornare a casa la sera per finalmente fare un'unica partita, che è comunque meglio di niente. Il video che finisce conclude qui, spero come sempre che vi sia piaciuto, se volete in iscrizione ci sono tutti quanti i tutorial di questa mappa in una playlist, ci sono anche tutti quanti i miei social che vi invito a seguire, tra cui Instagram, Twitch e anche il canale Discord, dove trovare altri giocatori per fare easter egg, ground out e cose del genere, per non aver detto ottenere altre mappe e per il mio veramente qualunque cosa immaginabile. Noi ci vediamo come sempre a un prossimo video. Un abbraccio. A la.